Mille lettere in sette anni e poi minacce, foto hard, messaggi in codice e ritagli di giornale. Insomma un caso di stalking in piena regola. Vittima della persecuzione è Francesco Facchinetti, cantante e conduttore televisivo di Mariano Comense e figlio del frontman dei Poo. A gennaio del 2012 la denuncia in procura, ora la conclusione delle indagini. La persecutrice, secondo il PM Simona De Salvo, sarebbe una 42enne di Napoli, attualmente in carcere per tentato omicidio e adesso accusata di stalking e difesa dall'avvocato Davide Arcellaschi. Le lettere non sarebbero state inviate solamente a Francesco Facchinetti ma anche al padre, Roby, cantante dei Poo, del quale la donna sembra si fosse invaghita e poi al chitarrista Dodi Battaglia e al figlio Daniele. Nelle missive anche minacce di morte, foto di cimiteri di croci e persino alcune fotografie pornografiche della molestatrice immortalata nel pieno di un rapporto sessuale. Curioso quanto raccontato dall'indagata, avrebbe infatti preso conoscenza dell'indirizzo della sua vittima dopo averlo sentito durante un programma televisivo.